Terzo gruppo di canzoni, Tipi Tipi Ti di Panzeri, Pace e Pilat. E al podio il maestro Franco Monaldi e canta Mario Tessuto. Quando io ti venivo a cercare mi aprivi la porta. Ti dicevo se tu sei contenta ti porto in città. Ogni volta mi hai detto di sì e venivi a ballare con me. Mi ricordo che allora l'orchestra suonava così. Tipi 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 dove vai? Tipi 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 cosa vai? Tipi 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 come vai? Sei innamorato di lei? C'era un uomo dell'organino che ci dava un biglietto blu. C'era stretto ti vuole bene, ma non era la verità. Tipi 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 dove vai? Tipi 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 con chi sei? Tipi 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 come vai? Tipi Tipi. Come mai questa sera, maestro, tu sbagli le note Con la gente che c'è, ma perché, ma perché guardi me Oramai l'hai capito anche tu, che l'amore per me non c'è più Ma vorrei che l'orchestra suonasse per sempre così Ti 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 E c'era il muro dell'organino che ci dava un biglietto blu, c'era scritto ti vuole bene ma non era la verità. Nii bidi bidi dico beh vai... Nii bidi dibi dico zappai... Nii bidi dibi dico beh vai C'è per unSon